musica musica benvenuti ragazzi in questo nuovo video su Worms siamo oggi ritornati su Worms appunto in compagnia non sento niente devo reggisaro, mi rompetami ma non si mangia mai in questa casa poi quando inizio a dover fare dei video con un certo jumpy tech, esatto, un video di un certo livello comunque ragazzi, cosa andremo a fare in questa partita? come potete vedere abbiamo dei nomi abbastanza strani, morri a tutti Ivanka Trump, Tiffany di Trump, Donald Trump e soprattutto Melania Trump, mentre io ho tutti, ma che fai? già stai attaccando? ma che minchia attacchi ho sbagliato troppo forte mentre ragazzi, si stermino tutti! sappiamo tutti che Trump non ha un buon rapporto con i messicani, infatti vuole alzare anche un muro, una cosa molto molto brutta, perché ho cercato i nomi su internet, Ronaldo era un nome messicano, che minchia vuoi da me? ti giuro compà non è vero! ti giuro che Ronaldo ha un nome un messicano comunque io vi... questo si chiama esperidione, capito? questo è molto partito, Gonzalo, eh Gonzalo, sì anche Gustavo, potevi usare i nomi di Narcos, porca puttana, anche se non sono messicano Gustavo! ma che ci fa? Melania Trump da sotto aaaaaaah! figlio di troia! no! ma scastavo tutto! tu non ti sei minchia ogni volta! guarda che ora hai il culo e ti spawni con Elena Trump si! lo sapevo io! lo sapevo! ragazzi, in questo gioco sono abbastanza ritardato oh, ma giun per la minchia dai figli, polla poi co... oh, il su... tu pure, pure lo picchiesti in volo! ho fatto un double shot! faccio sto quickscope! esatto! minchia caffiata! no dai però, minchia ogni volta non può finire così! minchia fai schifo nel suo gioco! minchia non sono proprio bravo a giocare va bene, va bene che stai facendo? ho metti in cannella, ma picchi... posso fare lo pazzo? ma fai le penne! che stai facendo, compa? pazzo, ma... pazzo scatenato! moriamo entrambi! ma chi stai facendo? ma compa? ma compa, tacchiamo di sopra! vabbè! i messicani devono sopravvalere su questi trampe di merda! i don't care about your complaining! compa, dove si vengono fish and chips? dai, è buono, manciamo un nillo! ciao, ronaldo! oh, almeno un mickey samueldo! sii nella vita! forza! mi hai bruciato la vita! sei un figlio di buttana! ma! i don't like! i don't care! that people! says me! that i'm wrong! i'm donald trump! and i'm going to break your ass! mother fucker! ah, magari di cuffietto, compa! mi sono un pazzuto! non ragiono più quando... quando entro nella parte! ma comunque gli faccio sempre il caffiato... ah! ah! minchia! mi sa che siamo un... Ivanka? sei stata una brava figlia! pure porca, sei per chiesto però! mi sa che... fai! come minchia si smonta sto cosa, porco due! oh! non te lo dico! porco due! non lo fai! ebba fa un culo! se ti salvi... no! cadi! scivola! non ci credo! madonna ragazzi che forza! cioè hai pure... ma porco tu hai pure i personaggi... bucciaccio dai culo! non ci sto credendo! proviamo di nuovo così! vediamo! guarda che ora ha sfitto un occhiaio! ci fa fresci l'inter l'acqua! ahiai! ahiai! lo sentiste? porca miseria! si! lo dovevo immaginare che la traiettoria era la stessa! per cristo! ora... per cristo in cristo in cristo! amen! ma si fa a saltare? ah! finisci il tempo se spari! si! ma poi cazzoia! ma che stai faccio? comunque con invia si salta! si salta con invia! eh! picchi morisci ora! io faccio una cosa pazza! no! te ne sei un figli polla però! compa! faccio una... un sacrificio! guarda! no! ma che signif! hai salvato tutti e due compa! ma che traiettoria è? santo dio! compa! ho salvato tutti e due! dimmi grazie! ah! è ora che fai compa! è ora che pensi di fare alla mia povera ivanka! alla mia figlia prediletta! ah! non... non ti permettere sai! forse usaccio un manuto allora! allora aspetta! devo capire dove andarmi a allendare! ma che fai? ma cotta fino ad alzarti! sito cretino! ah! ok! oh! ok! ti metti la sopra! Ivanka tutta a posto lì sotto! si insomma non sei messa molto bene! però non ti può care! una chirurgia plastica e tutto passa! bene! ah! guarda che gli devo pagare la chirurgia per l'ingredimento delle zin! tua madre! sei tra l'altro un ritardato che sprechi una cosa del genere per ammazzare la mia figlia! ah! cioè dimmi tu! cioè era fuori! era fuori! posso dire una cosa! era fuori! ma posso dire una cosa! era fuori! tu sei veramente un c***o! ah! 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 era fuori! non ci sto credendo! era fuori! non ci sto credendo! era fuori! era fuori punto! cosa ti posso dire? io non so cosa ti pino! cioè tra l'altro questo personaggio è una mia minchia! guarda! piano piano! la bomba sacra! ciao! rip! saluto! 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 mi hai fatto un male di cristo! ah ok vai! minchia che gioca! ma io gioco troppo bene! tu fai cacare invece! io non capisco bene le meccaniche di questo gameplay! vuoi vedere? vuoi vedere come finisco in grande stile? ah! ma vediamo come finisce in grande stile! minchia però se centro il bersaglio compa! ma derumare i piccioli! non ce la farei mai! wow! minchia che tiro compa! fuco d'artifiso! fuco d'artifiso! il fuco d'artifiso! ah! gonzalo! il muro sta arrivando! preparati! a essere! ghettizzato! subito! dai! si confuso la persona! ma chi? ah! 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 che va? ah! devi capire! tu hai la merda nel cervello cazzo! tu hai lo sterco nel cervello! lo ho fatto là giù! che va? la cosa strana di questo giovent è che non capisci quando hai effettivamente equipato delle armi! Quello è la cosa strana di questo gioco Mi sto parlando un problema Ma ti ho frantumato Cambiamo mappa Qui ragazzi prometto di andare meglio Perché Cristo santo Devo controllare bene mi chiamando le cose Ma tipo sarebbe uno degli scopi del gioco Però non lo diciamo a nessuno L'ho ritirato Non ci credo No la mia pecora è destrata Non ci credo Ciao Ronaldo Ma che hai fatto Ah beh dai Perché ho sbagliato l'ho fatto esplodere La mia pecora comunque Non la vedi banca Non te la posso dire Se ci sono baffini e sciammo Ti giuro a Cristo E porco 2 Ma muori Melania di merda Eh mi sta che Tale di ci sono A Esperdion Ciao Esperidion Ti ripago con la stessa moneta Ti ripago con la stessa moneta Ciao La madre la prende nella feta La conciafevo tempo Minchia rupe Non l'ho Minchia che scemo Non ti risponi con Ivanca Non ti risponi con Ivanca tanto È impossibile Scommessa E te lo disse compa Con Tiffany Ancora questo lato Non l'ho utilizzato Porco 2 Quanto sa O Gesù Cristo Te la capiglia Boom Ciao Porco 2 Oh Ronaldo Che fai Basta Minchia Mala caffiata Questo Out of bag� Oddio lo sapevo Ciao rattling Tiffani Tiffany On what he can do Lorимо Ecco 2 Tiffany Eh vieni qua Piano Piano su Tiffany Oh 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 Utica » surfaces bedda» «Ciao» «Okay, Tiffany, l'abbiamo inspiration» «Pezzo di me***a» « willingly 6 mesi» «Tonca Tiffany» Illenebbe close story «Mi riv倒種 se salita di una famiglia» «Due v**l 1» «Mi sta piacendo una sfida» «Azi sono fermata la famiglia!». «Appurem telefono della famiglia» «È quello che porto il pane a casa» « mocksado!» «For se il muro era necessario» «Ciao» «Ciao!» «Qué mora, mi maia larga» «Ciao!» E ora c'è il corrisso, Donald Trump, compa, mi sono fatto fuori tutta la famiglia, ora mi faccio fuori pure o leader della famiglia Il premier, il premier Il premier, ah esatto, allora aspetta, facciamo così Ormai la tua vita è finita, senta mea No, io la peccora Ciao, pecorella che fa? Passate, è Trump fuori io 38, tutt'anella Madò, per poco, se lo riprendevi in faccia era finito, Gonzalo Le poldine stammi lontana Ma c'è che tu non ce la voglio Ma è a terra questo lecottero, bravo Mettete qua Finiamo così Ciao Ciao, ciao bombetta Alleluia, pom Non ci credo, ma chi è 24 Ma che cazzo è 24 E finisce qui, e finisce qui Il Messico prevale su Trump Allora, adesso con Comodo ce l'andiamo Ma che fai? Oh, hai da compagno Esplode quella cosa Sì che esplode POM Mi ha messo pure una poldina, non me l'hai fottuto un cazzo GONZALO E vince Ricordati Te l'ho morito Oh, ma visto muore? Però la poldina si è sacrificata per la patria Quindi adesso questo muro Si è sacrificata Esatto Facciamone metà Metà muro No, metà muro Fanno un giro like se vogliono angiare Se vi è piaciuto vi è piaciuto lasciare un bel progetto sotto a questo video E iscriveteci qua sotto nei commenti delle squadre che possiamo creare per sfidarci qui su WhatsApp Da Gapitech è tutto E ciao ciao Illuminati Group E iscriveteci qua